ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questa volta c'è una fascia differente in realtà l'avete già vista all'inizio del canale poco fa quindi praticamente noi facciamo un video ogni sei anni ogni volta c'hai slick in realtà noi ci conosciamo proprio da anni da anni quantissimi di voi lo riconosceranno come il ragazzo che aveva il 701 che si era presentato con le gomme slick e io ho detto lo scarico del s1000 esatto lo scarico del s1000 sotto e agenta ancora oggi mi dice ma quello è quello con scarico del s1000 poi io non te l'ho mai detto ma io del 701 l'ho venduto grazie a te che fordico ho messo l'annuncio è arrivato un signore ma guarda bene vede le grafiche fa ma che stai a modo fatto il video di spavolto si adesso 500 ore caparra non l'ha approvata non l'ha accesa a mani basse pagame poi poco fa si sa come se sono allineati gli astri le lune quello e quell'altro facciamo una uscita insieme riusciamo a fare una famosa uscita veramente 12 anni 12 anni famosa uscita si presenta che è slick allora ho detto faccio il titolo e copertina è chiaro il titolo e copertina e la gente giustamente mi hanno devastato perché tu sei ricorrente con le slick no in realtà mi è beccato con le slick bugiardo sono 12 anni il vangelo che è slick sì no non è vero a parte i scherzi sulle sue sportive non l'avevo mai fatta sta cosa poi il motard perché proprio il motard è secondo me una moto da criminale si può dire criminale ma non è vero diciamo di criminali diamo dei criminali a tutti quelli che c'hanno il motard adesso perché vorreste dire il contrario io ci ho rimesso 12 punti da patente in un anno mai perso mai perso punti da patente in vita mia 12 punti da patente in un anno e quindi che succede che oggi e lui è qui perché dice io sono il motociclista proprio sbagliato sì io no è vero la persona meno adatta a fare i consigli vabbè ma perché no perché no comunque si abbiamo un sacco di cose belle ma anche delle cose brutte no mi avrà sicuramente qualche cosa da raccontare prima di partire però volevo dirvi che proverete la yamaha r7 sestantesimo anniversario del concorso pompata da vrs allo stand di vrs ad eicma che è il patiglione 15 stand q47 però insomma la troverete lì e mi troverete a me ogni tanto che faccio la guardia all'r7 e stiamo preparando anche qualche cosa per voi durante tutte le giornate del lake ma che ancora non vi posso dire è qualcosa che proprio vi renderà attivi cioè sarete voi i come si dice protagonista bravo è pronto sì io mi diverto un botto se così o nine o nine o nine non si vede non si vede la curva tralasciando il fatto che lo stop lui non l'ha proprio considerato ma questo lo stop sì ma mi pensa che questo qua arriva da cannone da dal dislivello questo è proprio distrazione totale guarda come zumbetta vedi betto zumbetta betto vedi si appoggia un betto eccolo un oppi questo cambia corsia ah beh no c'erano i su raccordi che poi l'ha preso sì 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 questo è un genio quindi a prescindere questi su raccordo io vedo una al giorno ma io sai che adesso portando iulia a fare fisioterapia tre volte a settimana settimana siccome è stata all'altra parte di roma devo prendere la macchina oh non c'è niente da fare c'è sempre il traffico perché c'è qualcuno che fa un incidente oh cazzo non è che dici quanti ne capitano ma se io ogni volta so tre volte a settimana che ci fate ogni volta becco un incidente ma tutti i giorni eh questo perché succede oh 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 no cazzata oh oh dai 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 che buco bello 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 sì che bello l'ha lasciato all'iasi almeno 15 20 chili ne ha fatti almeno 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 che cosa è successo qui tecnicamente per i meno esperti perché si sta approcciando adesso la guida praticamente arriva a cannone questa strada sale e scende E arrivato a questo punto, siccome non vede dietro, a un certo punto vede che la curva stringe. Quindi che fa? Pinsa con l'anteriore. E si ecca. E si ecca a cà. Però pensando con l'anteriore, in un momento in cui tutto il carico è già sull'anteriore, la prota posteriore viene su. Questo succede anche quando c'è un po' di panico, un approccio alla curva un po' troppo repentino. Quindi freni molto di più di quanto dovresti. Quindi l'ABS non te fa cadere, però si alza al posteriore e la moto si scompone. Una volta che si scompone, nella testa di una persona meno esperta, panico. Secondo me qui a questo punto doveva semplicemente lasciare il freno e buttasse te. Eh, però, o dici te? Eh, infatti dico, certo. Ventanile moto? Sì, certo. Sì, qui lui doveva? Lasci i freno al massimo posteriore e guardi dentro. Invece lui che ha guardato guardrail. Queste cose le odio. Che cosa? Il portatelefono sulla sua esportiva. Il portatelefono? Non lo concepisco proprio. Così, messo così. Così. No, vabbè, questo era... 130, te ce poggi. Beh, effettivamente è un po' altino. Come cazzo ce l'ha messo? Oh, no, questo... Eccolo, eccolo. Però il telefono sta là, quindi comunque il quadlock funziona bene. Eh, ma questo è stato così, come ha detto... Disattenzione. Sì, questo è... Non si è reso punto. No, ho capito io che... Hai visto qualcosa? Io pure l'ho vista, però non so se ho visto bene. Eh, secondo me, io ho capito perché hai capito. Il casco? Io, infatti, non lo savo dire. E' tutta lì la problematica. Vabbè, in questo momento mi sto spostando un pochettino l'attenzione da quelli che c'hanno i led a quelli che c'hanno i cosi sui caschi, i corna sui caschi. Io non capisco come cazzo fa... Ti giuro, mi ha contattato un'azienda che fa sta roba. Che tipo metti il mascherone sopra il... No, no. Io ho detto no perché ho detto io, mi dispieghi come cazzo fai andare in giro con quel coso perché appena tu superi i 50, i 60 all'ora, tu c'hai il vento che si infila dentro i peli di quel coso che adesso si fa tipo... Quello. Il bello è che c'è stata la moto completamente cappottata, distrutta, che sta ancora rotolando se stiamo concentrati. Esatto, esatto. Non la famo? Non la famo. Non la famo. Ma è sparita una corsia al buffo? No, e se... Guarda un pochettino. A posto! A posto! Meno delle monoposto questo. Oh no, si ha fatti i danni al colorio. Si ha fatti i... Non era la monoposto, era l'anno opposto. Ah, è già successo? Ok, è già accaduto. No, dai. Ma che amico di merda. Che ha fatto? Avrà fatto lui il vino. Ah, sì, sì. No, l'olio ha fatto i danni. Eh, qui è il cartare. Mettere, mettere i copricarci. Lei mi ha salvato, eh. L'altro giorno mi ha salvato il copricarci. Come l'altro giorno? Ah, è vero, ha fatto un incidente. Raccontaci la tua esperienza. Ma in realtà... In realtà anche no. Allora no, semplicemente è successo questo. La macchina in canale del traffio, ovviamente, io ero sulla sinistra. Ok. Ok. Però non arrivava nessuno all'altro lato e non ero tranquillo. Sto tizio doveva girare a sinistra. Fa il gesto per girare a sinistra e io freno. Ci ripensa e si rimette in corsia. Ok. Fa 20 metri. Inversione a U. Me lo sono trovato fermo davanti perché ovviamente non è riuscito a fare l'inversione a U al volo. Fortunatamente era 25-30 km di orari. Certo, mezzo al traffio. Però, frenando con l'istinto di stare più lontano, la mia non c'ha niente. Io ce l'aveva. Me la sono data per cappello. Stoppato. Ho stoppato. Ho stoppato. Non ho toccato la macchina, se non con il corpo. Nel senso che poi ci sono andato addosso io, ma la moto non ha toccato. La moto però mi è venuta sulla schiena. E quindi mi ha toccato. Non è un CBR 1000 sulla schiena, non è proprio massimo. Non lo consiglio. Poi, se volete... Non lo consiglio. Tra l'altro c'era anche la mia ragazza dietro a me. L'ha fortunatamente... Aspetta. Ha scavallato. La tua ragazza che... No, lei ha fatto come una catapulta. Ah, ok, è partita. Sì, 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 l'ho trovata su raccordo. Poi, vogliamo mettere la ciliegina sulla torta? Scende lui vestito da croce rossa. Ah. Che ha subito soccorso la mia ragazza, quindi per fortuna soccorsa subito. Si gira, mi guarda, c'ha un occhio di vetro. Quindi lui a me, con l'occhio sinistro, che era di vetro, non mi ha proprio visto. Non t'ha visto proprio. Lui non mi ha visto proprio. Comunque sia, poteva andare a peggio. Sì. Poteva andare a peggio. 1098, ragazzi, che è già ossigo da guidà. Sì. Orco 2. Madonna mia, che bello che ha fatto. Mamma mia. Padre di Dio, questo rischia di fare il mezzo busto al pincio per tutta la vita. Ragazzi, ve lo faccio vedere perché sennò non capite. Non capite la finezza. Questo è un mezzo busto. Questi sono i mezzi busti del pincio. Orco 2, davvero. Allora, secondo me li prendono così, quelli che fanno i mezzi busti. Ma tutte R6? Ma perdonami. Sì, è vero, sono tutte R6. Già hanno smesso di produrre le stradali. Poi le c'hai ma le demolimo. Madonna, ti giuro, quanto odio. Sì, 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 fai bene, fai bene. Madonna, quanto odio quelli che buttano la roba dal finestrino, regà. Dai, dai, metti il cavalletto e rinfila. No, no, no. Destro sul finestrino. Subito. Mi stai a prendere in giro. La fierezza con cui l'ha fatto. Guarda, guarda, guarda. Eccola. Ti guarda. Sì, è fatto già a comprare gelato, capito? Ci ha fatto tipo... Basta già a comprare gelato. No, ma lui è sputato al crispi e al bacon, guarda. Gli ha fatto pure così. Destino, guarda, guarda. Io scleravo. Io me ne vergogno. No, no, no. Me ne vergogno. Questi sono gli errori che si fanno quando si è più giovani. Ho fatto una cosa molto molto sbagliata, cioè, mentre andavo in moto, questo signore ha buttato, ha preso un mozzicone di sigaretta e me l'ha lanciato, l'ha lanciato. Che poi la cenere negli occhi... No, me l'ha lanciato addosso. Ah. E quindi io mi sono affiancato e io ho detto... Ma hai tirato una sigaretta? No, ma ha bucato nel giacchetto. Ha fatto... È una famosa abraspa. Perché l'ho ripresa, l'ho ripresa e l'ho fatto... E mi ricordo che cazzo, insomma, mi ha risposto male e io l'ho rilanciato dentro la macchina. Troppo carbato sei stato. Però io l'ho tipo lanciato in faccia. Sono un po' storto il manubrio. Leggermente. Panno a dritto sta tipo così. Ma che sei fatto? Ma che cazzo ti inventi? Ma sbrigate. La sella. Salviamo la sella. Almeno quella. Ma brucia, ma che sei fatto? Ah, dice... Oh, stai ancora prendendo fuoco. Ma poi... Cioè, non è che si mette dall'altro... Guarda il guanto. Ma non è che si mette dall'altro lato? No, questi sono i guanti quelli da lavoro della Vurt. Eh, quelli che sotto hanno l'anticipolo. Mamma mia. Ma, cioè, capito? Guarda adesso, tipo, qui. Pieno delle fiamme si è buttato con tutto il corpo. Olè, costine. Ma che fa? Poi ha fatto così e ha preso fuoco tutto il resto. Eh certo, perché è benzina. Ma fratello, la spenta. Però c'è da di che ha funzionato. Ha levato il serbatoio. Però genio. Non lo so, io l'avrei lasciato a bruciare. Ma che sarei torto? Allora. No, no, è troppo pericoloso. Troppo pericoloso. Astone, a me ha salvato la moto dopo l'incidente. Ah, è vero, mi ha detto che tipo ti stava a prendere fuoco qualche cosa? No, no, tipo, mi ha preso fuoco. Ah. Piazza Venezia. Perché avevi fatto tipo un casino con... No, ho fatto un faretto temporaneo, non avendo più il muso della moto. Eh. Tutto carino, col tasto e tutto. Un faretto temporaneo, signor giudice. Cosa succederà mai? Che cosa può succedere? Cosa può succedere? Un faretto. Ho avvitato, quando sono andato a riavvitare la cover del serbatoio, la gente non me ne sono accorto, ho preso il filo che io ho fatto affinare la batteria, il faretto, il positivo ha fatto massa, ha preso fuoco tutto il filo, la piazza Venezia, come io ho acceso il faretto, io sono sceso dalla foto, c'era un fumo bianco, ho strappato la sella, il cavo era una lama, sì, era una lama affilata, quella di Miracle Blade, ho fatto così, ho tirato su, ho strappato la batteria e si è spento subito, come ho spento, come ho strappato la batteria, però ho rischiato dopo l'incidente di buttare la moto, mi prendeva fuoco la moto a po'. Ho strappato la moto. Ma è turbo, il fratello ha fatta turbo. Eh, bel cazzo del lavoro. Eh, perché non ha preso fuoco? Non ha fatto qualcosa. No. Eh, tu, questa è una turbina, ragazzi. Ma come, ma come turbo? Questo è come finisco, ha fatta turbo, ragazzi. Diciamo che forse non te vuoi manco lamentare. Non fate le pit bike turbo e non mettete i valetti alle moto. Eh, oh, ma che è un vizio, ma che è tutto il diritto. È turbo, è turbo, è turbo. Guarda quello che si sbrigaccia nella moto. E questo qui, dai, dai, dai. Date, date, date. Bene, ragazzuoli, vi ricordo che troverete padiglione 15, stand Q47, la Yamaha R7, sessantesimo anniversario allo stand VRS. Grazie mille a Caccia per essere venuto qui oggi. Grazie a tutti, grazie a te per l'invito. Ci vediamo al prossimo late. Mettete mi piace, iscrivetevi, importantissimo qua sotto al video trovate il bottoncino e perché no, attivate anche la campanella se volete una notifica quando uscirà il prossimo video. Noi ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao! Io ho attivato la campanella l'altro giorno, sai?